Un altro quadro che vi vorrei far conoscere è Giuditta e Olofer, nel 1599, Olio su tela, si trova attualmente a Palazzo Barberini a Roma. È di un'estrema durezza, di un'estrema crudelità e infatti fece molto scalpore, ma fu anche molto apprezzato per l'eccessivo realismo. Vi ricordo appunto che la pittura di Caravaggio, a differenza di quella di Michelangelo, è una pittura che è alla ricerca di un realismo anche spietato, di una caducità della vita. Mentre Michelangelo, se vogliamo fare un paragone fra i due, è immaginazione, rappresentazione e immaginazione, invece Caravaggio è realismo assoluto. In questa scena, di nuovo, Caravaggio va a utilizzare personaggi che lui ritrova in strada, quindi molto spesso a posare per lui le sue modelle, sono cortigiane o gente del popolo, come per esempio la signora anziana. La storia di Giuditta e Oloferne è una storia biblica, dove si narra che il popolo di Israele, assediato da generale babilonese Oloferne, stava per cedere al nemico. Il popolo fu salvato da Giuditta, che si fece accogliere nel campo un nemico, fingendo di voler tradire il proprio popolo. In realtà lei aveva un piano. Venne invitata da Oloferne a un banchetto, lei aspettò che lui si ubriacasse, lo seduse e poi lo uccise, decapitandolo con la sua spada. In questa scena, la luce si posiziona qua in alto e cade a pioggia in questo senso, quindi la luce è come se ci fosse un faretto qua in alto e ricade qua verso il basso. Colpisce infatti frontalmente sia la donna giovane che l'ultimo respiro del povero malcapitato e della donna anziana, con questo aspetto molto grotesco e importante, pronta a accogliere la testa del povero Oloferne e recuperarla e metterla in questo sacco, in questo drappo di stoffa. Quindi questa era una scena molto forte dove giocavano anche le emozioni, c'è il grido, l'ultima consapevolezza del povero malcapitato, la donna in attesa e la ragazza talmente concentrata che corruga la fronte. In questo punto qua si vede la sua espressione facciale dove corruga le sopracciglia proprio per evidenziare la concentrazione dell'atto. Anche la terribile Medusa che viene raffigurata nel 1598 olio su tela e si trova alla galleria degli uffizi, è un'opera che ricorda in un certo senso la decapitazione di Oloferne. Anche qua è colta in un momento di decapitazione, nell'ultimo momento di vita e siccome spesso Caravaggio era stato criticato per essere oltre che molto crudo un pittore statico, fermo perché era molto abile a dipingere le nature morte e quindi veniva criticato come un pittore statico, fermo, allora proprio per rifarsi di questa critica dipinse questa medusa dove tutti i movimenti sono colti in un colpo solo, dal grido allo spalancare degli occhi, la lingua umida, la corrugazione delle sopracciglia e tutto quel serpeggiare che ha sul capo di questi serpenti colti in questo momento. Quindi rispose con questo quadro che invece è espressione di grande dinamicità in un colpo solo. Sempre per raccontare dell'estrema cura di realismo si narra che le vipere che ha in testa Medusa Caravaggio le avesse studiate dal vero, proprio per rappresentarle con maggiore realismo e studiarne il groviglio indistinto dei corpi grazie anche a questi colpi di luce che sono ereditati sempre dalla sua formazione della scuola Lombardo-Venita. Questo invece è il riposo durante la fuga in Egitto, 1595-1596. Viene rappresentata la Sacra Famiglia con un angelo nell'asse compositivo centrale, quindi vuol dire che viene messo come elemento centrale ed è un angelo bellissimo. Queste ali che viste da vicino sono veramente delle ali, sembrano quasi vere. La Madonna col bambino non sembra molto una Madonna sacra ma una madre, semplicemente una madre e un bambino. Ricordiamoci che lui trae dal popolo i suoi modelli, quindi va a cercare nelle strade romane e nelle sue frequentazioni di gente di strada i suoi personaggi. Quindi è normale che tante volte dissacri un po' i personaggi che invece dovrebbero avere per la Chiesa un valore un pochino più sostenuto e questo forse è stato molte volte oggetto di critica ma lui era arrivato a un livello tale di abilità e di fama che era arrivato anche al punto di pensare di fare un po' quello che voleva e quindi andare anche un po' contro la Chiesa nelle sue scelte stilistiche a rischio anche poi di farsi condannare. Infatti verso la fine, forse troppo sicuro di sé e troppo sicuro della sua fama, fece degli errori anche gravi proprio perché affrontò più volte il tema della Vergine ma andando a recuperare personaggi non proprio identificabili nella figura sacra della Vergine. Il santo qua a fianco è San Giuseppe che tiene uno spartito per permettere all'angelo di suonare. Lo spartito ha veramente delle note musicali dipinte una a una che sono riconducibili a un vero brano musicale. La storia biblica cosa ricorda? Ricorda che un angelo appare in sogno a Giuseppe invitandolo a fuggire in Egitto con la madre e Gesù bambino proprio per evitare che Erode uccidesse il piccolino. La drammatica deposizione del Cristo morto è vissuta proprio come la fine di tutto, come la fine della parola di Cristo e la fine di tutto. Il corpo di Cristo è livido, viene tolto dalla croce per essere collocato nel sepolcro ed è proprio un simbolo di fine di tutto, rimane non più la figura spirituale di Cristo ma un semplice uomo morto e sconfitto nella disperazione delle donne sul retro della scena. Come potete vedere dal primo canestro di frutta con sfondo chiaro si passa adesso a una fase di Caravaggio in cui le figure sono immerse nell'ombra più assoluta e emergono da un buio assoluto. Ancora più in ombra e luce per la vocazione di San Matteo. Come in Tintoretto anche qua sembra una scena costruita all'interno di una taverna. L'ambiente è spoglio e buio e alcuni uomini sono intenti a contare denaro. A destra si trovano isolate le figure di Gesù e di San Pietro. Lo comprendiamo perché sono appena entrati e la loro presenza dà come conseguenza una reazione immediata alle persone sedute a tavola. Gesù chiama col cenno della mano che ricorda la famosa mano di Michelangelo il gesto della mano accompagnato da un fascio di luce richiama Matteo alla retta via. È una luce radente che determina un accentuato contrasto fra chiari e scuri ed è una luce che guida dalla vita diciamo sporcata dai peccati infatti intento qua a contare denari a una retta via. Ci sono due versioni che dicono che San Matteo potesse essere colui che è qua a chino a contare soldi o questo personaggio con la barba che indica a se stesso come a dire scegli me, sono io che richiami all'ordine ma si suppone più fosse questo ragazzo chino a contare monete. Sembra proprio un gesto come dire seguimi. Il ciclo di San Matteo, quindi questa storia ma tante altre si trova a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi ci sono quindi tre tele disposte su tre pareti e si racconta proprio la storia di San Matteo questo era un esattore delle tasse che riscotteva presso il popolo ebraico per conto dei romani. Matteo dunque viene rappresentato come un uomo attaccato ai soldi, al denaro non rispettoso della legge ebraica che vietava di maneggiare monete che portassero all'immagine degli imperatori. Quindi cosa succede? Che Gesù andò da Matteo e gli disse semplicemente di seguirlo per seguire la retta via. E Matteo ovviamente viene rappresentato si ipotizza in queste due versioni. o l'uomo che si autoindica o, come forse più sarà, l'uomo che conta le monete. Abbiamo visto quindi in queste lezioni una carrellata di immagini e le pitture più celebri quindi i bari il riposo durante la fuga in Egitto i particolari delle trasparenze di cui appunto vi ho parlato perché lui era molto orgoglioso della sua dota e della sua abilità a riprendere trasparenze e l'acqua i fiori perché il cardinale Darpino gli aveva commissionato tele di fiori e frutta quindi era dichiarato da lui pittore ufficiale di fiori e frutta gli spartiti rappresentati con una tale cura che si possono veramente leggere e riprodurre i brani musicali la tragica scena un po' cruda di Giuditta che taglia la testa a Oloferne e l'oscurità che comincia a dar scenografia ai suoi quadri ricavando persone prese dal popolo quindi anche cortigiane o persone proprio di malaffare recuperate nelle osterie che lui frequentava altri quadri questa è la crocifissione di San Pietro i suoi vari putti o amorini la flagellazione di Cristo dove c'è una macabra danza di morte intorno alla povera figura di Cristo dove i carnefici sono totalmente immersi nell'oscurità quasi evidenziare la loro stupidità la loro ignoranza e nel centro la luce divina che evidenzia la figura di Cristo il gioco degli angeli l'angelo del bene, l'angelo del male che giocano in questa danza di contrasti la mappa di tutta la sua vita dalla partenza da Milano a Roma al sud Italia quando è in esilio ancora alcune scene dei suoi tantissimi quadri il famoso bacco probabilmente realizzato tramite camera oscura o raffigurazione autoritratto allo specchio e lo si capiva dal fatto che forgesse verso lo spettatore la mano sinistra col calice divino in sospensione fra un pensiero pagano e profano, pagano e cattolico proprio perché ogni scena ha una sua valenza simbolica il vino che è il sangue di Cristo e la vite che appunto rappresenta la vita del cristiano il bacio di Giuda e il famoso canastro di fuori